ariete giornata ideale per esplorare liberamente l'ambiente che vi circonda potreste scoprire qualcosa che vi aiuterà a capire meglio voi stessi toro potreste trovarvi improvvisamente a capo di un'impresa che potrebbe procurare grandi benefici alla collettività e che richiederà da parte vostra una notevole dose di ingegno e creatività gemelli fareste bene a offrire la vostra assistenza una persona che in questo momento è oberata da una serie di pesanti fardelli fatelo in modo spontaneo e disinteressato cancro siete ansiosi di esplorare in prima persona un'attività riguarda la quale avete avuto una serie di allusioni e messaggi piuttosto criptici da parte di chi già la svolge leone siete capaci di mettere da parte i vostri pregiudizi per un tempo abbastanza lungo da consentirvi di fare ciò che da sempre vi vietate di fare vergine siete ansiosi di sapere come se la sta cavando una persona che vi è cara e che si trova molto lontana da casa bilancia sarete soggetti a una serie di influssi negativi e a pressioni esterne che vi renderanno la vita difficile ci vorrà molta disciplina e forza di volontà per portare a termine ciò che avete intrapreso scorpione potreste commettere un errore che non avrà conseguenze se sarete subito disposti ad ammetterlo siate onesti con voi stessi e con gli altri sagittario potete permettervi di dire cose che non rispecchiano in tutto e per tutto il vostro pensiero ma le vostre azioni dovranno essere oneste e coerenti capricorno le cose dovranno essere fatte come soltanto voi sapete fare è probabile perciò che alla fine tutto il lavoro ricadrà sulle vostre spalle acquario non vorrete rendere pubblica una vostra iniziativa fino a quando non avrete la garanzia che nessuno voglia sottrarve nel controllo pesci potreste incontrare casualmente una persona che vi potrebbe cambiare la vita perciò non state a casa e non chiudetevi in voi stessi